È stata pubblicata in gazzetta ufficiale il decreto legislativo numero 48 del 2020 in merito all'attuazione di una direttiva europea sull'efficienza energetica nell'edilizia e sul risparmio energetico. L'entrata in vigore del decreto stabilisce che gli incentivi come l'ecobonus vengano rilasciati a condizioni che i sistemi siano installati da posatori certificati o qualificati EQF3 o EQF4. Posatori qualificati sono persone che hanno esperienza pluriannale nella posa dei serramenti. Il posatore senior EQF3 deve essere a conoscenza delle norme di settore, essere in grado di saper scegliere i materiali e saper posare il serramento. Posatore capo squadra EQF4 deve conoscere tutti i punti dell'EQF3 e deve conoscere i criteri di progettazione. Per poter essere posatori certificati EQF3 e EQF4 deve essere effettuato un corso diviso in due parti, una parte teorica e una parte di posa, entrambi con esame finale. Fregealluminio propone ai propri clienti dei corsi certificati EQF3 e EQF4 effettuati attraverso i propri certificatori riconosciuti da Accredia. Solo un serramento installato, secondo regole ben precise e con prodotti di qualità, potrà garantire le prestazioni termiche e acustiche verificate con i test di laboratorio e rispettare i parametri di legge.